è questa, siamo nel pieno della quarta ondata, il numero di casi ha superato il picco della seconda ondata e non accenna a diminuire. In paesi, li vediamo, li abbiamo visti tante volte in questi giorni come la Bulgaria e la Romania dove ci sono pochissimi vaccinati, 25-30% della popolazione soltanto praticamente i morti seguono i casi, ci sono migliaia e migliaia di decessi. Allora che cosa succede? Che anche paesi che sono sempre stati bravi, che sono sempre stati migliori e magari i più liberi tornano indietro, come nel gioco del log. Adesso praticamente si torna le restrizioni e il lockdown, che forse è quello che noi stiamo cercando di evitare. Allora la Germania, che abbiamo sempre preso come esempio adesso ha 55.000 casi di Covid al giorno, in media nell'ultima settimana 226 morti al giorno in media, quindi che succede? Tornano i tamponi gratuiti che erano stati tolti, vengono inseriti ad esempio il Green Pass sul posto di lavoro e sui trasporti pubblici, dove non c'era, e l'obbligo per i sanitari, per il vaccino per i sanitari, che non c'era. Quindi anche questo per loro è praticamente la rottura di un tabù, perché c'è questa emergenza. In Olanda scatta il lockdown parziale, per cui i bar e i ristoranti chiudono alle 20, i negozi non essenziali alle 18, gli stati tornano a porte chiuse, il distanziamento sul lavoro addirittura di 5 metri. Poi c'è l'Austria, l'Austria l'abbiamo vista prima, aumento enorme di morti in pochi giorni, lockdown per tutti, dose booster addirittura anticipata a 4 mesi. I mercatini di Natale li abbiamo visti, questi erano i mercatini domenica, il giorno dopo, lunedì tutto chiuso, tutto deserto, e l'Austria ha anticipato, è chiuso tutto, che è quello che noi probabilmente vogliamo evitare. La Danimarca, la Norvegia, paesi dell'Europa del Nord, che abbiamo sempre visto come i paesi più liberi, adesso reintroducono il Green Pass che avevano tolto, il Corona Pass in Danimarca e anche il Green Pass in Norvegia, per tutti per evitare il lockdown. E allora che cosa succede? Che tra i paesi che invece sono messi meglio in questo momento, ci sono quelli che sono sempre stati un po' gli ultimi della fila, l'Italia, la Spagna, il Portogallo. Eri in città dei pigs, vi ricordate? I paesi del sud dell'Europa. La Grecia che ha vaccinato pochi, ovvero 80, sono tutti tra i primi 10 con meno morti in Europa. Eccoli qua, c'è la Spagna, c'è l'Italia e c'è il Portogallo. Io credo che qui ci siamo fatti.